Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei fare un approfondimento su una moneta che nell'ultimo periodo stava iniziando a scendere nella capitalizzazione di mercato, si tratta di VeChain, infatti c'è un importante aggiornamento al modello 2.0 di questa criptovaluta, quindi analizzeremo quali sono i punti forti di VeChain, che cos'è questo aggiornamento al modello 2.0 e vedremo se è veramente possibile un 10 per a breve su questa criptovaluta che al momento si trova al 23esimo posto della capitalizzazione di mercato delle criptovalute. Ma prima di iniziare ragazzi, come sempre, vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati, quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Vi ricordo come sempre la presenza di gruppo Facebook, Instagram e Twitter dove possiamo iniziare a discutere insieme di argomenti inerenti, gli investimenti, le criptovalute e la crescita personale e finanziaria. Ma iniziamo immediatamente con il video di oggi e cerchiamo di capire prima di tutto che cos'è VeChain, che ha come token VET. VeChain infatti è una piattaforma della catena di approvvigionamento basata su blockchain. Iniziato nel 2015 e lanciato a giugno 2016, VeChain mira a utilizzare la governance distribuita e la tecnologia Internet of Things, la cosiddetta IoT, per creare un ecosistema che risolva alcuni dei principali problemi con la gestione della catena di approvvigionamento. La piattaforma, vi ricordo, utilizza due token interni, VET e VTHO, per gestire e creare valore in base alla blockchain pubblica VeChainTor. L'idea, infatti, alla base del progetto è quella di aumentare l'efficienza, la tracciabilità e la trasparenza delle catene di approvvigionamento, riducendo i costi e affidando un maggiore controllo nelle mani dei singoli utenti. Passiamo a un punto molto importante quando studiamo una criptovaluta. Chi sono i fondatori di VeChain? VeChain, ragazzi, vi ricordo che è il prodotto del creatore e cofondatore Sunny Lu, un dirigente IT che in precedenza era CEO di Louis Vuitton China. Da allora Lu è diventato un nome ben noto nel settore delle criptovalute. Ha attirato, infatti, l'attenzione sulla capacità della tecnologia blockchain di risolvere in particolare i problemi legati a trasparenza, perché in questo modo si possono sostenere che si possono creare strutture senza fiducia cosiddette, che non soffrono di corruzione come parte della catena di approvvigionamento. E questo è un fattore importante, ragazzi, perché proprio in generale il settore delle criptovalute va ad agire in maniera decentralizzata, o quantomeno ci si aspetta che si possa fare in maniera decentralizzata, tutta la gestione della blockchain relativa alle criptovalute in modo da evitare di avere gruppi di potere che possono andare a piacimento a modificare i parametri base di quello che è previsto nel progetto in questione. Il cofondatore Jay Zhang, che dirige la struttura aziendale globale, la governance e la gestione finanziaria di VeChain, ha lavorato quindi in precedenza sia per Deloitte che per Pricewaterhouse Coopers nella sfera della finanza e della gestione del rischio. Lanciata nel giugno del 2016, VeChain è una delle più antiche piattaforme di supply chain blockchain dedicate sul mercato cinese, perché questo fa parte del mercato cinese come progetto. Quindi capite bene, ragazzi, che i fondatori sono comunque persone di un certo livello e che hanno avuto esperienze dirette in alcuni settori che possono essere anche molto utili per lo sviluppo della blockchain. Ma vediamo un altro punto fondamentale. Cosa rende VeChain unico? Perché in mezzo al mare di criptovalute che possiamo notare, nascere giornalmente, è chiaro che un progetto per andare avanti e quindi per sperare di poter scalare le classifiche delle criptovalute deve avere un qualcosa che lo differenzia da tutti gli altri progetti. VeChain esiste per interrompere i modelli tradizionali della catena di approvvigionamento, un settore che prima della blockchain era rimasto poco cambiato nel corso degli ultimi decenni. L'utilizzo di una tecnologia trasparente senza un singolo punto di debolezza o controllo consente una maggiore sicurezza, efficienza e facilità di tracciamento dei prodotti in una determinata catena di approvvigionamento, riducendo al contempo i costi grazie all'automazione affidabile. Il modello di VeChain si rivolge quindi alle aziende che cercano di ridurre l'attrito della catena di approvvigionamento e dare un'impressione più trasparente ai clienti. La lettura ufficiale di VeChain rileva che la sua proposta unica risiede nella configurazione a doppio token tra le altre caratteristiche. Le commissioni interne infatti sui token si combinano con gli addebiti per vari servizi per generare reddito operativo per l'azienda, mentre i titolari di token possono impegnarsi in attività come lo staking, fornendo così liquidità in cambio di ricompense. VeChain inoltre si aggiorna attualmente al meccanismo di consenso Proof of Authority 2.0, che è il motivo di questo video ragazzi. L'ultimo aggiornamento infatti del meccanismo di consenso dovrebbe migliorare diversi aspetti della sicurezza e delle operazioni chiave della rete, rendendola ancora più ecologica. Quindi già partivamo ragazzi da un progetto che aveva ottime potenzialità. Con l'aggiornamento che stiamo andando ad analizzare, il cosiddetto 2.0 Proof of Authority, rendiamo quindi questa criptovaluta e questo progetto ancora più forte dal punto di vista ecologico e dal punto di vista della sicurezza. VeChain, quindi network per il monitoraggio delle supply chain lanciato nel 2015, ha appena aggiornato il suo meccanismo di consenso a quella che sostiene essere la modalità più ecologica del mondo. Molto importante questo ragazzi, perché capite bene che ci sono al momento un sacco di spinte sotto tutti i punti di vista, non solo sulle cripto, ma anche dal punto di vista azionario, a spingere nella direzione dell'ecologia e della sostenibilità dei progetti. Quindi andando ad implementare questo tipo di miglioramento e questo tipo di soluzione ecologica, ci si aspetta che nel prossimo futuro questa criptovaluta venga apprezzata sempre di più. Vi ricordo che il 16 novembre VeChain ha quindi raggiunto un'importante pietra miliare nei suoi sei anni di storia, aggiornando il suo mainnet VeChain Tor alla prima fase dell'algoritmo di consenso Proof of Authority 2.0 Surface. La Proof of Authority e la Proof of Stake differiscono dalla Proof of Work in quanto non richiedono l'attività di mining per raggiungere il consenso della rete. La Proof of Authority raggiunge il consenso verificando l'identità degli utenti, mentre la Proof of Stake ottiene tale obiettivo mettendo in stake le monete della rete. La rete VeChain funziona, vi ricordo, con soli 101 nodi, un minor numero di nodi infatti. Secondo i creatori, riduce la decentralizzazione, ma aumenta la velocità delle transazioni. Questa è una caratteristica molto importante per applicazioni commerciali e industriali. In confronto, vi ricordo che Bitcoin conta attualmente 13.244 nodi, mentre Ethereum ne ha 2.701. Un ulteriore vantaggio è anche che la Proof of Authority risulta meno energivora, riducendo quindi il tasso di inquinamento del network. VeChain suggerisce che il nuovo aggiornamento rende il suo protocollo di consenso il più ecologico del mondo, necessario quindi per guidarne l'adozione di massa. Capite bene ragazzi che se un minimo vi intendete di ciò che succede sui mercati, sapete per certo che questo tipo di passaggio è fondamentale per una criptovaluta per rimanere ai livelli top per un periodo molto lungo. Secondo l'annuncio ufficiale, infatti, dato proprio dal team di sviluppo VeChain, l'aggiornamento consiste in tre componenti principali. Il primo è una funzione di casualità verificabile, cosiddetta VRF, che assegna in modo sicuro e casuale i nodi per produrre blocchi o elaborare transazioni, rendendoli immuni a tentativi di manomissione. Il secondo è un processo di produzione di blocchi approvato dal comitato che riduce significativamente la probabilità di forking della rete. Il forking può causare ritardi e rallentare il throughput del network. Il terzo componente dell'aggiornamento, invece, è un processo passivo di conferma della finalizzazione dei blocchi. Questo aiuta a garantire che i nuovi blocchi vengano finalizzati, anche se non tutti i nodi sono stati sincronizzati. L'aggiornamento Proof of Authority 2.0 Surface, quindi, pira a migliorare la scalabilità, la sicurezza e il throughput di VeChain Tor. Il team di VeChain spiega nell'annuncio che la Proof of Authority 2.0 Secure Use Case Adaptive Relatively Fork Free Approach of Chain Extension, che è con l'acronimo chiamato Surface, sia necessaria per soddisfare le esigenze delle future applicazioni blockchain e la crescente domanda globale. Vari exchange, tra cui Binance e Crypto.com, hanno supportato l'hard fork di VeChain, il cosiddetto VET. Nonostante la notizia positiva, il prezzo dell'asset è diminuito ulteriormente del 10% rispetto a ieri, giorno in cui sto registrando questo video, che vi ricordo essere il 19 di novembre. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti voi per i vostri continui sforzi e quello che è stato detto proprio dal team. Un particolare grazie alla nostra carissima VeFam. Godiamoci questo momento insieme, quindi il team di sviluppo è largamente positivo sul futuro di questa criptovaluta. Il 16 novembre, inoltre, il progetto VeChain ha annunciato l'elezione del secondo comitato direttivo, l'SC, chiamato anche SC. L'SC è stato quindi progettato per facilitare l'efficienza del processo decisionale e garantire l'equità e l'efficacia dell'esecuzione per tutte le questioni fondamentali del progetto. Detto questo ragazzi, io comunque vi ricordo che non sono un consulente finanziario, quindi non andate ad investire solo perché io ho pubblicato questo video. Fate sempre le vostre analisi e informatevi prima di fare qualsiasi investimento, soprattutto nel settore delle criptovalute. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse sarebbe gradito un bel commento, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!